Ci troviamo qui nella stazione Conizugna che insiste su via Vincenzo Foppa e in parte sul parco Don Giussani. Questa è una stazione terminale del lavoro di scavo delle TBM. Infatti in questa stazione sono giunte sia le due TBM piccole provenienti da San Cristoforo che le due TBM di grosso diametro provenienti dalla stazione tricolore. Quindi sono state estratte in questa stazione. La stazione Conizugna è costituita da un corpo profondo dove arriveranno praticamente i treni e ci saranno le banchine di stazione e un corpo più superficiale che è l'atrio di collegamento alle uscite della stazione. Gli accessi verranno dal lato Conizugna e si troverà una praticamente all'interno del parco con la relativa anche Scala Mobile e l'altra su via Vincenzo Poppa. La galleria alle nostre spalle è la galleria binario pari della linea metropolitana M4. Come potete vedere è il punto di arrivo della galleria di piccolo diametro che ha iniziato il suo scavo dal manufatto Ronchetto passando per tutte le sette stazioni della tratta Ovest. Nella galleria sono stati già installati i binari necessari per il transito dei veicoli ferroviari.